Festa rimandata! Il gol di Bizzocchi ad inizio secondo tempo aveva acceso le speranze dei numerosi supporters accorsi al Benelli per sostenere il Ravenna Calcio nella giornata giallorossa indetta dalla dirigenza. Ma al termine dei 90 minuti, insieme al successo nel derby col classe, è arrivata la notizia della contemporanea vittoria del Meldola, sempre per 1-0 contro il Castrocaro. Promozione quindi rinviata per il Ravenna Sport 2019, che potrebbe tuttavia raggiungere l'obiettivo finale domenica prossima sul campo del San Termete, dove ai ragazzi di affaticato sarà sufficiente aggiudicarsi i tre punti senza dover fare affidamento sugli insuccessi altrui, come in quest'ultima tornata di campionato. Vennendo alla partita di ieri, i padroni di casa hanno dominato gli avversari che per quasi tutto il tempo regolamentare, hanno creato ben pochi problemi alla difesa ravennate, soffrendo invece le incursioni dei giallorossi sulle fasce. Eppure, il gran numero di occasioni create da Ravenna non ha mai portato il gol della sicurezza, e come spesso accade in questa tipologia di incontri dove non si riesce a porre fin anticipatamente la tenzone, si è rischiata la beffa negli ultimi minuti, con il classe che ha sprecato alcune occasioni d'oro per pareggiare la partita.